Numero 5 Lei può Ryan Howard Howard contro Dalì Se la gioca in virata dietro la schiena Può andare fino in fondo Schio Lo fa Howard Tripla senza senso della distanza Onnipotenza cestistica Al pala Romare di Schio Buzzerbeater di Ryan Howard Numero 4 A.K. Ferma K.A La stoppata di Avak Kuyer Su Cristina Nigue Adesso invece è un bella scena con la stoppata di Kuyer Ecco, questo testimonia la difficoltà Del caressor precedente di Anigue Perché i pentacoli di Kuyer arrivano veramente Da perfetto Numero 3 Ormai siamo quasi abituati al Nicole Romeo Il pallone dentro e fuori ancora per Nicole Romeo Che fa saltare Delar Bella la partenza in crocio Altro grandissimo cadestro Tutt'altro perché è facile Per Nicole Romeo Numero 2 Numero 2 Un'entrata acrobatica per Francesca Pasa Francesca Pasa Trova un canestro bellissimo Numero 1 Raelin Dali Porta un po' di magia del 3x3 Anche al Palaromare Dai vai Tra l'Italo-Statunitese e la ungherese Magia Di Raelin Dali Spettacolo pure Al Palaromare Dietro la schiena per Cabà Che fa il suo E rimpingua il bottino